E per cercarmi questa verità ti ho detto che ho girato il mondo, quindi sono stato in America, in Russia, all'est, a nove, sto parlando con scienziati, con testimoni, con tattisti, politici, di tutto. Non ci sono alieni negativi, non è vero. Ci sono le suocere. Eh? Ci sono le suocere. Ci sono le suocere. No, vedete, non posso parlare di tutto. Vedete, non ci sono, prendiamo la mia, la conferenza, già spazio tanto perché comunque devo toccare i temi etici e della spiritualità perché questa visita è spirituale.